Napoli collegamenti in tilti, il maltempo non dà tregua, pioggia e violente raffiche di vento stanno creando danni e disagi in tutta la campagna. Difficili collegamenti marittimi nel golfo, agli scafi fermi e saltate le corse di diverse navi per Ischia e Procida, alberi abbattuti dal vento nel Sannio. Minori armati a Napoli, Piantedosi rilancia il piano, è il numero uno del Diminale sicuro che gli interventi programmati saranno positivi, spero di tornare con i primi risultati, ha detto, e sulla sfida per le regionali il ministro si è defilato da una possibile candidatura, sono impegnato su altro. Delitto vassallo, ex pentito, svela una nuova verità, Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia, arrestato insieme ad altre tre persone per l'omicidio del sindaco di Pollica, ha indicato nell'ex carabiniere Lazzaro Cioffi l'autore materiale del delitto, ora per gli inquirenti in nuovi scenari. Agricoltura, stati generali, chiusura con il governatore e il presidente della regione stamani ad Avellino per chiudere l'iniziativa che ha rilanciato le nuove sfide del settore. L'uso strategico dei fondi europei sulla crisi al comune è duro attacco del consigliere Petracca. Trasporti SOS dei sindaci più corse nel Sannio e in attesa del ripristino della ferrovia Benevento-Napoli via Cancello, l'Unione dei Comuni della città Caudina chiede maggiori collegamenti da Montesarchio alla stazione di Afragola, sono indispensabili per pendolari e studenti. Napoli contro la Roma, altro sold out al Maradona, Conte avrà tutti a disposizione ma l'unico dubbio è legato a Olivera, Salernitana e Sassuolo con Sepe, Juve Stabia per il riscatto con il Brescia. In Serie C Benevento a Taranto per tornare a vincere, Biancolino carica l'Avellino per la sfida col Catano. E questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale di Otto Channel, in apertura il maltempo in queste ore, campania flagellata dal vento e dalla pioggia. Continua a imperversare il cattivo tempo su tutta la nostra regione, rende anche oggi molto difficili i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli dove da stanotte soffia un fortissimo vento di ponente. E' fermi dunque nei porti tutti gli aliscafi e cancellate le relative corse programmate da Napoli, Molo, Beverello, da e per i porti di Forio, Casa Micciola, Ischia Porto e Procida così come quelli da Pozzuoli per Procida. Numerose anche le corse sospese delle navi per Ischia e Procida in partenza sia da Napoli che da Pozzuoli. Probabili ulteriori cancellazioni anche per il resto della giornata. Numerosi gli interventi poi dei vigili del fuoco, in particolare nel sannio per alberi caduti, cartelloni e coperture di capannoni di velte a causa delle forti raffiche di vento. E cede parte di una tettoia nella zona di un centro commerciale che a breve sarà inaugurato e un operaio è stato colpito dai frammenti ed è rimasto ferito. Tutto è accaduto nel napoletano, atto riannuziata nei pressi del Maximall Pompei, la cui inaugurazione ufficiale è prevista per la prossima settimana. A cedere è stata una parte di una tettoia che ha colpito un operaio di 29 anni. L'uomo è stato trasferito all'ospedale del mare ed è stato dichiarato fuori pericolo per fortuna. Armi ai giovani, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è tornato a Napoli per la presentazione del libro di Italo Bocchino all'Hotel Vesuvio. E c'è stata l'occasione anche di parlare del piano che si sta prontando per prevenire la diffusione di armi tra giovani e giovanissimi. Vediamo. Non si allenta l'attenzione a Napoli sul fronte della prevenzione della violenza giovanile. In particolare si lavora per intercettare le armi con cui centinaia di ragazzi scendono di casa ormai ogni giorno, soprattutto nei fine settimana. Una diffusione di armi che il ministro Piantedosi, tornato a Napoli per la presentazione del libro di Italo Bocchino, non ha esitato a definire una vera iattura. Ma c'è un piano. C'è sicuramente questa grande iattura che riguarda soprattutto Napoli, non solo, ma soprattutto Napoli, di una diffusione che crea una disponibilità soprattutto per i ragazzi. Le forze di polizia attraverso un piano straordinario che stiamo affinando e che si alimenterà, insomma si sarà realizzabile anche attraverso un notevole sforzo di attribuzione di altre risorse che faremo adesso da dicembre a gennaio, in qualche modo e comunque nei primi mesi dell'anno tra polizia e carabinieri metteremo a disposizione risorse diverse, centinaia, come abbiamo detto, che saranno quasi tutte dedicate al rafforzamento di questi servizi, che saranno fatti in quadranti cittadini e in onorari, soprattutto notturni, che sono quelli in cui certi fenomeni hanno fatto registrare la maggiore incidenza, in qualche modo. Per l'occasione all'Hotel Vesuvio si è riunito il vertice di Fratelli d'Italia in Campania, in prima fila anche l'ex ministro Gennaro San Giuliano. Piantedosi ai cronisti ha ribadito che per il momento non ha alcuna intenzione di candidarsi alla regione Campania, mentre scalpita il vice ministro Meloniano Di Ferro Edmondo Cirielli, pronto a sfidare tutti, compresi gli alleati di Forza Italia, che rivendicano la candidatura alla presidenza. Il carcere, 7500 assunzioni per la polizia penitenziaria, il piano del governo contro l'emergenza carceri in Italia, ad annunciarlo il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, a margine del convegno organizzato a Napoli. Vediamo. Mettere un freno al caos che vivono le carceri italiane con un piano che purtroppo è stato assente negli ultimi 50 anni, così il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro dal convegno dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria su carcere e criminalità 4.0 a Napoli. Un piano di assunzioni ciclopico come mai vi è stato nei 20 anni precedenti, oltre 7500 assunzioni finanziate nei primi 24 mesi di governo, così come abbiamo postato oltre 250 milioni per l'edilizia penitenziaria per recuperare 7.000 dei 10.000 posti per contrastare l'odioso fenomeno del sovraffollamento che ha reso spesso inumana la pena in Italia. E a proposito di suicidi, dopo l'ennesimo caso di ieri nel carcere di Poggio Reale dove si è tolto la vita a un uomo di 28 anni originario della provincia partenopea, Del Mastro commenta. Quanto riguarda i suicidi abbiamo messo in atto un piano prevenzione suicidiaria e credo che la miglior risposta però sia quella strutturale, quindi recuperare posti detentivi proprio per garantire l'umanità della pena come stiamo facendo. Mentre su criminalità e nuove tecnologie il presidente dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria evidenzia. La tecnologia ha fatto dei passi da giganti, quindi adesso ci sono i droni da contrastare, c'è il traffico dei microtelefonini da contrastare. Chiaramente non avendo risorse e strumenti adeguati la polizia penitenziaria è sempre più in affanno, peraltro subisce ogni giorno aggressioni proprio a seguito di una gestione fallimentare del modello detentivo. Al Comune di Napoli adesso dopo l'elezione di Gaetano Manfredi alla presidenza del Lanci si riapre il dibattito politico sul possibile rimpasto in giunta. Sentiamo. Ora che il sindaco Gaetano Manfredi è stato eletto presidente del Lanci si ricomincia a parlare con insistenza di un riassetto della giunta a Palazzo San Giacomo, anche perché con l'impegno nazionale l'ex rettore sarà costretto a lasciare alcune deleghe che fino ad oggi ha tenuto per sé. Ma squadra che vince non si cambia, lo ha ribadito anche Roberto Fico nel commentare la vittoria di Manfredi al Lanci e dunque i cambi in corsa ci saranno ma non sarà una rivoluzione. Una casella toccherà certamente al Partito Democratico, quella lasciata vuota da Paolo Mancuso su Ambiente e Rifiuti, mentre Manfredi potrebbe decidere di tenere ancora PNRR e Cultura. I nomi che circolano per la sostituzione di Mancuso sono sempre gli stessi, quelli del capogruppo DEM, Gennaro Acampora, e della presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, sempre in quota PD. Ma non si esclude un nome esterno. Poi ci sarà un chiarimento politico con i 5 Stelle, che a fronte di tre consiglieri, rispetto ai sei iniziali, hanno due assessori in giunta. Mentre con cinque eletti anche Alleanza Verdi Sinistra chiede un assessore. Poi c'è il capitolo Deleghe e su questo fronte attenzione alta, soprattutto tra i gruppi di maggioranza che hanno sostenuto Manfredi alle comunali. Incongruenze nelle liste d'attesa della sanità, incontro in Consiglio regionale con la consigliera del gruppo misto, Marie Muscarà, che presenta un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti. Vediamo. Le criticità della sanità pubblica, dalle interminabili liste d'attesa alla rete dell'emergenza, fino ai tetti di spesa mensili, al centro della conferenza stampa, promossa dalla consigliera regionale indipendente Maria Muscarà, in cui è stato ufficializzato anche l'esposto, presentato alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, sulle incongruenze nei dati forniti dalla Regione Campania e che riguardano proprio il tema. I dati sono quelli che ho chiesto in due anni di interrogazioni e di question time. E vi devo dire che ho una fatica enorme, perché naturalmente poi la struttura sanitaria regionale si è difesa. E ogni volta dava dei dati non parametrati alla mia richiesta, quindi per me è stato estremamente complicato poi riuscire a decodificarli. La prova però poi è uscita fuori. Abbiamo dei numeri bassissimi che fanno riflettere sulla reale esistenza delle liste d'attesa. Cioè quando un ospedale ha zero visite in sistema sanitario regionale e tantissime in intramenia, ti devi chiedere com'è possibile che il paziente sia stato mandato in intramenia prima di aver esaurito lo spazio all'interno del sistema sanitario nazionale. Hanno preso parte alla conferenza anche il presidente di Sud protagonista, Salvatore Ronghi, e il presidente di Federlab Campania, Vincenzo Danna. Io voglio chiedere, faccio un appello a De Luca, la smetta di giocare sulla sanità, perché giocare sulla sanità significa giocare sulla pelle delle persone. Due persone ferite, di cui una trasportata in ospedale, il bilancio dell'ennesimo incidente stradale registrato lungo la statale Telesina, nel territorio di Paopisi, nel Sannio. È qui che un camion ha violentamente tamponato un pullman dell'air che proveniva da Cusano Mutri, al cui interno viaggiavano alcuni studenti e il conducente. Ad avere la peggio è stato il proprietario del mezzo pesante che viaggiava in compagnia di un'altra persona. Tanta la paura per i giovani passeggeri che per fortuna sono rimasti illesi. Traffico in tilt lungo la 372 per circa due ore, tempo necessario per soccorrere i feriti, uno dei quali estratto dalle lemiere del camion, dai vigili del fuoco, ed effettuare poi i rilievi da parte dei carabinieri che ora dovranno chiarire la dinamica dell'incidente. Ad Avellino si sono chiusi gli stati generali dell'agricoltura. La presenza del governatore regionale De Luca Petracca, il consigliere, dice che il comparto è trainante e bisogna coniugare tradizione e innovazione. Sentiamo. Il governatore De Luca ha chiuso gli stati generali dell'agricoltura. Al Polo Giovani di Avellino una settimana di lavori con otto tavoli tematici che hanno rappresentato un'occasione per sviluppare una strategia che favorisca l'innovazione, l'efficienza e il radicamento dell'agricoltura sul territorio come comparto trainante dell'economia locale. La regione si è caratterizzata per un grande fermento legislativo in materia. Voglio ricordare su tutte alcune cose. La legge sulla castanicoltura è l'unica regione d'Italia che è una legge specifica per la promozione e per la ricerca con una dotazione finanziaria. La legge che abbiamo approvato da qualche mese sull'enoturismo e rientriamo nelle quattro regioni d'Italia che hanno una legge sul tema. Questa programmazione ha molte risorse sulle start-up legate all'innovazione e sul biologico. Quindi si è molto concentrato su questo. Le risorse principali saranno esattamente su questa tematica. A margine Petracca ha commentato in maniera molto dura quello che sta accadendo al comune di Avellino con le pressioni dell'ex primo cittadino Gianluca Festa sulla Nargi per un rimpasto in giunta. Qui ci occupiamo di cose serie. La vicenda del comune è oggettivamente ridicola. Fare una giunta e sostituirla dopo tre mesi è la cifra della qualità politico-amministrativa che c'è in comune. Però noi oggi proviamo ad occuparci di problemi del territorio e non di queste barzellette che avvolgono il comune. Ci spostiamo in costiera amalfitana. La ZTL territoriale sarà pronta per il 2025 ma ora è il momento di passare all'azione e organizzare i territori. È quanto emerge dall'incontro tra i sindaci. Oggi avvietri sul mare. Vediamo. Una svolta per migliorare la viabilità territoriale e turistica della costiera amalfitana. I sindaci della Divina riuniti si avvietri sul mare per rilanciare il tema della costituzione della ZTL territoriale diventata legge hanno illustrato le basi per un lavoro che andrà fatto nei prossimi anni. Presente anche il deputato PD Piero De Luca che della costituzione della ZTL ha fatto una battaglia personale. L'esigenza di difendere e di costituire una ZTL a casa territoriale partiva da qui perché questo accada è necessario che la regione perimetri l'area innanzitutto insieme ai comuni interessati e in regione partirà perché sono stati appostati 4 milioni di euro oltre 4 milioni di euro per la progettazione delle infrastrutture necessarie che questa ZTL veda davvero l'attuazione. Ora è il momento di organizzare il lavoro sulle strade della Divina. Hanno messo infrastrutture alle 4 porte d'ingresso della costiera Amalfitana due in montagna tra virgolette a Gerola, Tramondi e due a zona mare, via Ripositano e poi con tutti i paesi che ci devono essere in collegamento dal punto di vista tecnologico. I comuni intanto si attivano con le prime proposte. Noi come Comune di Viete stiamo già attivando un'idea progettuale per realizzare dei parcheggi qui a Vieti sul mare e quindi prima dell'accesso in costo da Amalfit da lì in poi creare dei mezzi di trasporto alternativi che possono essere anche mezzi elettrici che vanno a normativo con quello che è l'Europa 2030. Ovviamente ci sarà tanto da lavorare, oggi è un primo tassello. In attesa del ripristino della ferrovia Benevento-Napoli via Cancello l'Unione dei Comuni della città Caudina rappresentata dal sindaco di Arpaia chiede maggiori collegamenti da Montesarchio alla stazione di Afragola per i pendolari e gli studenti. Vediamo. I sindaci dell'Unione dei Comuni della città Caudina intervengono dopo che è stata risanota la data ultima per la riapertura della Valle Caudina chiusa ormai da tempo per importanti lavori di rifacimento e messe in sicurezza sia della linea ferroviaria che delle stazioni a partire da quella in centro a Benevento. Siamo fiduciosi. Dall'ultimo incontro che abbiamo avuto ci hanno assicurato che per gli inizi di luglio dovrebbe partire questa benedetta Valle Caudina quindi questa linea ferroviaria a Benevento-Cancello e quindi Napoli che è di primaria importanza per noi non solo per l'utenza ma anche dal punto di vista per smaltire il traffico veicolare sulla via Appia che oramai è insostenibile. Saremo vigili sul futuro e sui prossimi mesi, su quello che accadrà. Il sindaco di Arpai e presidente della città Caudina nel frattempo chiede a LEAV più collegamenti su gomma tra la Valle Caudina e lo snodo ferroviario di Afragola proprio per i pendolari. Come rappresentante dei sindaci della Valle Caudina istituire delle corse da Montesarchio alla stazione di Afragola perché sono importanti soprattutto due o tre corse di andata e ritorno perché noi sappiamo che molti lavoratori, molti pendolari la mattina vanno ad Afragola per prendere il treno per andare a Roma lo fanno giornalmente. Ancora un'auto in fiamme a Solofra in provincia di Avellino sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale compagnia per fare luce sull'incendio che ha distrutto nella notte intorno al 1.30 un'autovettura in sosta in via Starze della Corte fortunatamente non ci sono feriti le fiamme hanno danneggiato anche la facciata di un fabbricato adiacente sul posto i vigili del fuoco di Avellino che hanno spento le fiamme e messo anche in sicurezza l'area l'auto è andata completamente distrutta i carabinieri stanno valutando anche l'ipotesi del dolo già nelle scorse settimane si erano registrati a Solofra altri incendi di auto in pieno centro in alcuni casi di evidente matrice dolosa Mani insanguinate, flash mob e occupazioni le università napoletane protestano per la situazione in Palestina gli esponenti della maggioranza di governo si indignano e parlano di scene inaccettabili vediamo Impronte di mani lasciate con vernice rossa per simulare fossero sporche di sangue è la protesta pro-Palestina andata in scena ieri all'Ateneo di Napoli Federico II le mani sono apparse sulla porta a vetri che porta alla direzione generale del rettorato dell'università proteste anche all'orientale con l'occupazione della sede di Palazzo Giusso iniziative che si inseriscono in una più ampia mobilitazione, controlli e collaborazioni tra università italiane e istituzioni militari o aziende legate all'industria bellica abbiamo messo in scena questo flash mob che rappresenta una scena verosimile cioè una stretta di mano tra un militare e il rettore dell'università all'orientale Roberto Tottoli questo non è casuale l'occupazione dell'orientale è stata fatta proprio per sostegno al popolo palestinese e libanese che da più di un anno sono sotto le bombe genocide dell'esercito israeliano e in generale con questa occupazione denunciamo il totale processo di militarizzazione dell'università ecco questo è l'emblema di tutto ciò un protocollo di intesa tra l'università all'orientale di Napoli e il comando di visione Vittorio Veneto proteste giudicate inaccettabili dagli esponenti della maggioranza di governo a Salerno è stata presentata la nuova società che gestirà la stazione marittima e i traffici croceristici obiettivo 2 milioni e 400 mila passeggeri in 8 anni Salerno prova a consolidarsi come punto di riferimento del turismo croceristico obiettivo che è alla base del progetto Amalfi Coast Cruise Terminal abbenato dalla fusione di Salerno Cruisis e Salerno Stazione Marittima l'obiettivo ce l'ha dato l'autorità portuale con 2 milioni e 400 mila passeggeri noi siamo certi di poter raggiungere questo obiettivo e di poterlo superare con una programmazione che non è più diciamo annuale ma è una programmazione di lungo spettro le crociere noi le programmiamo a n più due anni quindi i primi veri risultati li vedremo nel 2026 già oggi li stiamo vedendo ma sarà una crescita che negli anni sarà sempre più cospicua Alla base del nome scelto c'è una strategia di marketing chiara proporsi come porta d'accesso della costiera amalfitana e allinearsi con il nominativo dell'aeroporto Il nome fa riferimento alla costa d'Amalfi così come fa riferimento alla costa d'Amalfi l'aeroporto di Salerno costa d'Amalfi quasi un aggancio simbolico tra le grossi hub che consentono l'arrivo del turismo nella nostra città Un nuovo corso che proverà a sfruttare i risultati raggiunti in questi anni che hanno rappresentato già un successo per l'indotto croceristico salernitano Quest'anno abbiamo avuto circa 70 navi da crociera arriveranno fino a fine dicembre e questo dimostra che è un lavoro fatto bene certosino e di competenza di avere veramente un grande risultato per quello che poi riguarda il turismo cittadino I geologi in campo per la prevenzione a 44 anni dal terremoto d'Irpinia del 1980 Anche quest'anno l'Ordine dei Geologi della Campania ricorda il terremoto d'Irpinia del 23 novembre 1980 proponendo l'iniziativa Il geologo nella scuola memoria e consapevolezza per prevenire i rischi di domani progetto educativo che mira a sensibilizzare gli studenti sui rischi naturali e sull'importanza della prevenzione Al progetto hanno aderito circa 180 scuole della Campania per un totale di 10.000 studenti Un team di 100 geologi professionisti proporrà incontri formativi dedicati ai rischi naturali come i terremoti e ai comportamenti da adottare in situazioni di emergenza Le attività proseguiranno fino alla fine dell'anno scolastico con l'obiettivo di raggiungere tutte le scuole partecipanti Per rendere gli studenti protagonisti attivi dell'iniziativa il progetto comprende anche un concorso fotografico a premi Dopo 44 anni, dichiara Egidio Grasso, presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania il terremoto dell'Irpinia è ancora un potente monito sull'importanza della prevenzione e della pianificazione La prevenzione si traduce nell'adeguamento sismico dei edifici e nell'applicazione rigorosa delle normative antisismiche fondamentali per limitare i danni Tuttavia, anche la pianificazione è essenziale, aggiunge Grasso Piani di emergenza comunali, meglio noti come piani di protezione civile rappresentano un tassello cruciale per preparare la popolazione e le istituzioni a rispondere prontamente in caso di calamità Io mi fermo qui per il momento, restate su Otto Channel Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.